eccomi 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 buonasera amici amiche rossoneri ragazzuoli ragazzuoli belle buona serata di questo venerdì 10 maggio 2024 e buon sabato 11 maggio se mi vedi il giorno dopo come dico sempre come dico sempre come dico sempre ragazzuoli e ragazzuoli belle vi mando l'abbraccio a tutti che ore sono mentre registro sono le ore 19 e 10 le ore 7 e 10 della sera le notizie sono belle fresche anche se questo video è registrato allora ragazzi parliamoci molto chiaramente il giornalista biasin ho visto il mio video o si è informato sulla sua notizia per cui cosa fa lui più di tutti gli altri più di del nostro pelle gatti più di questo più di quell'altro più di serafino tutti quelli che cavolo volete questo ha già messo le mani avanti avete visto biasin ha già messo le mani avanti perché questo qua si è informato per fare un'affermazione del genere dopo la mia scoperta dopo che scoperta dopo quello che ho saputo dopo che il mio informatore mi ha informato io non ho scoperto una mazza me l'ha detto il mio informatore eccolo qua avete capito sentite o parliamoci chiaro lo ripeto per la centesima volta io tifo per Antonio Conte da novembre e non mi scassate le balle da novembre è chiaro però questa purtroppo è la realtà volenti nolenti potrebbe essere allegri speriamo sempre in Antonio Conte volenti nolenti potrebbe essere allegri speriamo sempre in Antonio Conte avete capito ci siamo capiti non fate affidamento purtroppo sulle parole che appena sul video che è diventato virale di serafin a carlo pelle gatti perché purtroppo serafin non ha saputo quello che ho saputo io purtroppo serafin può sicuramente averlo saputo ma dice ma se io non so chi è la fonte a me che me ne frega questa una balla chiaro però se l'è tenuto per lui non ha fatto come signora Andrea Longoni non ha fatto come lui per cui vedete biasin che persona intelligente è biasin biasin lui che va su mediaset in tv è lui va su mediaset in tv lui che scrive su giornali molto autorevoli della carta stampata sportiva biasin è biasin leggiamo leggiamo biasin non mi sorprenderebbe se il nome di Allegri rientrasse fra i possibili sostituti sostituti di pioli 10 5 2024 e 17 10 l'orezzo de angelis è chiaro è chiaro insomma io spero sempre che Antonio Conte che Allegri prenda la casa gallarata è giusto per fare villeggiatura piuttosto che ragazzi parliamoci chiaro però insomma poi arriviamo anzi no salto subito la notizia risale può dire tutto e niente oggi slatan ibrahimovic ha fatto un post di lui con la maglia bianca con la t-shirt bianca con gli occhiai da sole che guarda in alto guarda verso il futuro guarda verso lo spazio sta pensando a quello che deve fare ha scritto sotto questa sua fotografia vision e mission visione e missione praticamente ha postato questo messaggio su instagram io vi invito tutti quanti a scrivere su instagram portaci Antonio Conte la proprietà deve avere ambizione dati una svegliata vabbè allora per domani noi ci vediamo per il video reaction dopo la partita il video sarà caricato come al solito entro le 23 30 massimo la mezzanotte non farò un video lungo ragazzi per cui sintonizzatevi perché domani c'è da sintonizzarsi perché contro il Cagliari di Ranieri sarà dura ve lo dico la partita è milan Cagliari domani alle ore 20 45 8 e 45 di sera e pioli udite udite tutti quanti hanno già titolato i giornalisti fa la rivoluzione contro il Cagliari per cui lascia in panchina dall'inizio della partita Teo Hernandez Leao Calabria Tomori e svara il 4 3 3 per mettere in mezzo alla a giocare nella mediana Musa insieme a Rainders e Benassea sulla sinistra in attacco Pulisic con a destra Ciuqueza in mezzo Giroud e poi invece per le fasce Gabbia e Florenzi e in difesa Ciao e Calulu e che tutti gli astri ce la mandino buona ragazzi scusatemi un attimo va bene insomma qui siamo quasi alla fine del mondo però insomma cerchiamo di avere un po di speriamo che tutto vada bene allora il ct della Slovenia oggi ha parlato di Sesco c'è la novità ci sono gli agenti procuratori di Sesco l'agenzia che ha la procura per e l'immagine di Sesco e tutto il resto per Sesco a Milano a farsi un giro turistico per adesso turistico però il ct della Slovenia ha dichiarato questo oggi velocità fisico e gol Sesco è proprio da Milano chiunque lo prende fanno affare Benjamin non è uno che delude beh speriamo con quello che ci costerà Sesco e ieri per Cassi con congratulazioni alla Atalanta per essere andata in finale di Europa League ecco io dico una cosa ci potevamo essere noi al posto dei Bergamaschi e invece ci sono loro e voglio ricordarvi che Ibrahimovic Furlani e Pioli avevano messo ai 4 20 che l'obiettivo era la finale di Europa League puntualmente deluso quest'anno e voglio fare una pernacchia a tutti i giornalisti che oggi hanno scritto che Pioli dovrebbe rimanere in panchina che noi dobbiamo prendere esempio dalla Atalanta dei percassi Pioli e Allegri dovrebbero rimanere sulle spettive panchine questo hanno scritto i giornalisti oggi questo hanno scritto i giornalisti oggi ma che giornalisti siete ma che giornalisti siete ma che giornalisti siete sono io più giornalista di voi sono io più giornalista di voi sono io più giornalista di voi come si fa a scrivere una bestialità del genere come si fa a scrivere una bestialità allora Allegri ha fatto quello che poteva fare con una squadra la Juventus che fa proprio schifo che non ha gli elementi giusti per poter vincere per cui Allegri da un certo punto di vista già ha fatto anche fin troppo Pioli invece che ha gli elementi superiori alla Juventus cosa ha fatto questo qua ma voi giornalisti come vi permettete di scrivere una roba del genere ma fate veramente ridere fate fate letteralmente ridere vedete la Atalanta insegna che mantenere lo stesso allenatore come hanno fatto i bergamaschi per nove anni otto nove anni quello che l'è porta risultati ma che porta risultati dei che l'Atalanta è un conto il blasone Milan è un altro ma che ragazzi di giornalisti siete ma fate ridere boh passiamo alla notizia del video l'avete visto in copertina Alessandro Alciato ex giornalista di Sky praticamente il discorso è questo no lui ha fatto questa bellissima intervista di cui vi ho parlato ieri di cui molti di voi hanno già letto sulle parole di Maldini con i complimenti alla dirigenza dell'Inter perché Maldini ha detto quello che pensiamo tutti noi ovviamente poi lui ha detto io a San Siro non ci vado più perché ci sono quei là quelli che mi hanno licenziato però era tutto riferito a loro però faccio una premessa all'affermazione che avete letto nella compagnia di questo video e a quello che vi sto per leggere adesso invece perché ve lo voglio ricordare a voce Alciato Alessandro Alciato non ha fatto riferimento a una persona in particolare non ha fatto il nome e cognome di chi ha fatto quella cosa di cui accusa Alciato non ha fatto nessun riferimento non ha detto il nome e cognome è stato vago vago cioè ha tenuto questa pressione nell'anonimato però come ho scritto nel titolo cioè scusate nella copertina e nel titolo allucinante per me è allucinante una cosa del genere per me è allucinante perché adesso anche nello sport cosa sta succedendo vogliono dire ai giornalisti cosa devono dire per non fare male a qualcuno questa è una cosa vergognosa Alessandro Alciato ha detto questo sul suo profilo Instagram le pressioni per non mandare in onda l'intervista riferita a Maldini non mi sono piaciute per niente al chat ho voluto tenere tutto nel vago non si è riferito a una persona in particolare e né tanto meno io lo posso fare perché non ci sono prove per dire chi è stato a fare queste pressioni che non voleva che andasse in onda l'intervista di Maldini però questa è veramente una cosa vergognosa se è vero quello che dice Alciato è veramente una cosa che è allucinante perché adesso anche nello sport dobbiamo arrivare a questi mezzi posso capire il discorso quando si parla di guerra di non guerra propaganda questo quello quell'altro e quest'altro battere la pesca insomma questi qui sono anni di questi ultimi cinque anni sono anni disgraziati parliamoci questo questi ultimi cinque anni sono anni disgraziati dove sembra che stanno facendo tutti quanti in giro per il mondo esperimenti su esperimenti e ce ne dobbiamo stare zitti belli acquattati che se parli e vedi è cosa succede che se parli però ragazzi ma anche nello sport adesso ma anche nello sport adesso ma questo veramente allucinante io non potevo definirlo in un modo diverso nel titolo e nella copertina è allucinante poi Alciato vabbè se vorrà dire chi sono ma sicuramente non li dirà preferirà non dirli lui è stato nel vagolo ripeto le pressioni per non mandare in onda l'intervista non mi sono piaciute per niente riferito all'intervista di Paolo Maldini Paolo Maldini non ha mandato a dire Paolo Maldini lo ripeto ha detto ha fatto i complimenti alla dirigenza dell'Inter e questa è una bella stoccata ragazzi se volete che vi dica per cui siamo arrivati adesso anche a questo livello qua siamo arrivati vabbè dai io vi mando un abbraccio Forza Milan sempre comunque ovunque sì stiamo passando veramente degli anni che è una roba però vabbè c'è sempre qualcosa di positivo da tirare fuori però ragazzi non abbassate mai la barra tenetela sempre dritta vi mando un abbraccio ci vediamo domani dopo la partita ciao